Ormai è tardi. È iniziato tutto lunedì, credo. All'inizio erano piccoli dettagli, timer, intimidazioni. Ho sottovalutato la cosa e così, quando quella ha abbassato la mia porta, credo di averla fatto entrare. Poi, alla fine, ho capito. Tra tutti i vampiri, i mostri, i fantasmi, il vero mostro è dentro di noi. Ormai è tardi. Capitata direttamente a casa tua. Oh, questa la tagliamo, ok? Comunque, chiunque tu sia, sappi che io sono commi. Piacere! La prima domanda che sorge spontanea quando una persona apre un canale YouTube è Ma di che cosa parlerà questo canale? Ebbene, io ho la risposta a tutte le vostre domande. No, non è vero. Solo a questa. Il mio canale YouTube parlerà di una delle materie più odiate dalle persone. E no, non è la matematica. Ma bensì dell'erkesites. 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 Cosa? Non avete capito? Beh, mi pare anche normale, non tutti parlano l'ungherese, eh. Comunque, vi darò un indizio. Erkesites, in ungherese, significa proprio marketing. E questo è l'indizio fondamentale, perché, sì, raga, di cosa parleremo su questo canale. E perché parleremo di marketing? Parleremo di marketing perché spesso viene vista come una materia oscura, dove le persone si improvvisano sempre esperte e guidano solo connotati negativi. Facciamo degli esempi. Fittì vende i suoi beveroni super dimagranti, super miracolanti? Quello è marketing. La cara e buon acqua e via interrogata Chiara Ferragni è venuta 8 euro? Quello è marketing. Motta e i suoi terrificanti spot quegli zombie. Quello è marketing. Ecco che qua entro in ballo io. La mia unica missione sarà quella di far cambiare il vostro tono quando parlerete della parola marketing. Rendervi più consapevoli e più informati. Anche perché non bisogna mica essere per forza esperti per parlare di marketing. Ma per parlare di qualcosa bisogna almeno sapere. Ma ora basta blatterare anche perché potrei finire a farvi degli spoiler. E a nessuno piacciono gli spoiler. Oh comunque questa voce è un po' stessata. Noi vediamo eh. Comunque community d'ora in avanti io, commi, sarò la vostra super eroina di cognome e di fatto. Detto questo, ciao! Ah e se non è ancora fatto, pusha, iscriviti al canale!